Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video, oggi è un video importante, magari un po' più breve ma è importante perché andremo a vedere gli errori che magari commetti più spesso delle volte la maggior parte delle persone fa sugli schemi istituzionali, sui concetti di caccia, test interno, mitigazione ci sono degli errori veramente gravi dove è anche facile caderci e quindi oggi voglio parlare di questo per magari aiutarvi durante le vostre analisi a non prendere stop loss o a non perdervi anche certe entrate andiamo subito a grafico a vedere il primo errore che fanno in tantissimi è il più grave secondo me è questo magari siamo in quella che ci sembra una distribuzione perché ci fa dei massimi uguali poi ci fa questo, ora mettiamo un po' meglio così il mercato entra dentro il range e tante persone cosa fanno? dicono ok questa è una distribuzione, si prendono questa zona che è anche giusta come zona da prendere per entrare a ribasso se avessimo le nostre conferme cosa fanno? mettono l'entrata short qui, sul ritest della struttura sappiamo che dopo una caccia c'è il ritest della struttura no? quindi tante persone fanno questo e poi il mercato cosa fa? fai stop loss, perché andati stop loss qua? perché un errore che hanno fatto loro è non aspettare il cambio dominance qui siamo ancora rialzisti, prima di Wyckoff viene la price action la price action è importantissima, quindi prima di tutto bisogna guardare la price action poi in più se conosciamo gli schemi di Wyckoff meglio e gli schemi di Wyckoff o altri concetti devono combaciare con la price action qui la dominance era rialzista, queste ultime strutture sono state rotte da questa emissione buy quindi siamo rialzisti, noi se vogliamo entrare a ribasso e una caccia da validità per entrare poi sul test interno, quando ci viene fatto questo ci cacciano ci fanno un minimo più piccolo del precedente la dominance diventa short perché questi buyers che comandavano che ci hanno rotto questi massimi vengono rotti a loro volta dai sellers e anche a livello proprio di trend qua ci fa un minimo più piccolo e allora qui sì che abbiamo le conferme per mettere l'entrata a ribasso invece tanti non lo aspettano come per il rialzo in un accumulo magari succede questo e le persone poi mettono un'entrata a rialzo qua quando il prezzo continua ad andare giù no, anche qua la dominance qui è short da questa emissione sell che ci va a rompere questi minimi dobbiamo aspettare la dominance che diventi rialzista quindi questo, un massimo più grande la dominance che diventa rialzista da qua e allora qui possiamo poi mettere la nostra entry e entrare a rialzo questo è il primo errore che fanno in tanti ma che è fondamentale capire ad esempio qui no, siamo in un trend ribassista generale vediamo questo massimo questo minimo che è più piccolo di questo precedente qua, la macro struttura, quelle più grosse e qua sappiamo che ci può riposare e poi continuare ad andare short volendo poi bisognerebbe fare un'analisi contestualizzata bene su tutti i time frame ecco, tante persone magari che cosa fanno? vedono questa zona dove il mercato si appoggia tante volte questa zona di liquidità vedono questo, tante persone che credono una caccia cosa fanno? il mercato fa questo e loro dicono ok, mettiamo l'entrata nel test interno quindi dopo la caccia in teoria verranno a testare qui per andare giù ci faranno il test interno fanno questo mettono l'entrata qui lo stop sopra ragazzi sto sudando c'è un caldo sono mille gradi ok? entrano così e poi il mercato cosa fa? continua ad andare a rialzo un grosso stop loss perché ci saremmo dovuti aspettare che cosa? la dominance e la rialzista da qua questi buyers ci hanno rotto questi ultimi massimi e quindi ci saremmo dovuti aspettare un minimo più piccolo una rottura e allora qui se ci avesse fatto questo il mercato ora togliamo anche quest'ultima blu perché non c'entra se il mercato ci avesse fatto questo allora qui aveva senso entrare perché il mercato ci avrebbe proprio detto guarda stiamo iniziando a essere ribassisti dopo la caccia abbiamo fatto un minimo più piccolo e la dominance inizia ad essere short invece no invece non ce l'hanno fatto infatti continuano ad andare a rialzo ecco vediamo ad esempio qua qui siamo in un trend generale che è rialzista perché vediamo come il mercato ci va verso il rialzo con le macro strutture poi ovviamente con le micro qua c'è il riposo ok anche se non sta andando su bello forte però è rialzista il trend qua cosa ci fa? qua ci accumula della liquidità con tutti questi minimi uguali ce ne erano anche qua sopra ovviamente cosa fa? ci va a fare una caccia dove vedete che qui c'è l'ultima sell to buy l'ultima sell prima del buy che ci è andata a rompere tutte queste strutture importanti precedenti da qua parte l'immissione che mi va a rompere tutte questo pattern ce lo fanno spesso quasi sempre ci accumulano liquidità proprio sopra la zona dell'immissione infatti sulla caccia si può entrare così e un altro errore che fanno in tanti appunto è entrare sulla caccia in maniere diverse o non entrare sulla caccia un errore è non entrarci in questi punti qua tanti entrano anche a caso appunto vedono questo movimento qua e loro entrano e qui fanno l'errore intanto che dicevamo prima se entri direttamente così perché entri senza la conferma del cambio dominance e due stai entrando in un punto sbagliato della caccia ecco questo è un altro errore invece qua c'era l'immissione corretta questo è un pattern che succede spesso per le cacce per entrare sulle sulle cacce sulle manipolazioni però qua ci fanno quello che invece vogliamo vedere dopo che ci cacciano ci fanno un massimo più grosso del precedente e la dominance che era ribassista perché questi sellers qua avevano rotto questi minimi sono stati rotti i sellers dai buyers quindi qua cosa si può fare si poteva tirare bene la struttura dove ci rimbalza più volte il mercato ecco qua vedete ci rimbalza sempre e sappiamo che il mercato ci avrebbe dovuto tornare in questa struttura a fare un test interno qua tornano quindi uno poteva comprare qua sappiamo che sui test interni possiamo entrare o sulle ultime emissioni quindi saremmo dovuti andare a vedere l'ultima candelina sell to buy possono esserci due tipi di test oppure o sull'ultima emissione come abbiamo appena detto sull'ultima candelina sell to buy che magari se la trovavamo bene nei time frame più piccoli combaciava con la struttura oppure sulla struttura quindi uno si metteva magari lo stop loss qua sotto o andiamo nei time frame più piccoli uno poteva mettersi lo stop sotto questo rifiuto qui ok su h1 ad esempio con un intratino anche intraday anche il take profit qua dai massimi ok poi long term bisogna vedere ovviamente si poteva anche mettere più ampio e questa è un'entrata che si poteva fare sul test interno perché a differenza di quella di prima qua ci ha dato le conferme giuste che vogliamo vedere ci ha cambiato la dominance e cambiato la struttura comunque ragazzi vi ricordo che io faccio delle formazioni one to one visto che me lo chiedete tanto su instagram che vi lascio qui e ho un canale discord per tutti i ragazzi che seguo one to one quindi oltre alle one to one faccio due ore di formazione a settimana aperta a tutti i ragazzi su discord che rimangono anche registrate e in più ci sono tantissime altre sezioni dove i ragazzi possono mandare analisi confrontarsi questo è un altro esempio se noi abbiamo una situazione del genere per ora questa non sembra la caccia è solo un minimo più piccolo dobbiamo aspettare che cosa la dominance in questo momento è sell da qui perché da qui parte l'immissione che ci rompe quest'ultimo minimo quindi ci dobbiamo aspettare per dire sì è una caccia un cambio dominance come ora ci ha fatto perché adesso questi buyers ci hanno rotto questo massimo quindi anche un abbiamo un massimo più alto del precedente ok e la dominance è diventata rialzista quindi ora sì che può essere una caccia a questi minimi per continuare un rialzo quindi adesso mi vado a prendere la mia candelina questa sell to buy sell prima del buy e vado a mettermi l'entrata qui a inizio del corpo e lo stop sotto il rifiuto della candela poi si può entrare volendo anche al 50% del corpo come vediamo spesso andiamo a tirare fibonacci il 50% era qui si può mettere un'entrata volendo anche più sotto lo stop sempre sotto il rifiuto ovviamente ragazzi ve la tiro bene si va ad arrotondare con la number theory quando tiriamo le strutture quindi questa si va a fare che cosa 40 la arrotondiamo un po' in negativo a 50 sappiamo la number theory che è 20 50 80 anche questa al 50% 80 preciso lasciamo così e quindi questo potrebbe essere il primo take profit ma anche long term anche qua al 50% di inefficienza o a chiudercela quindi l'operazione può essere così poi ovviamente bisogna contestualizzarla bene qua stiamo vedendo solo Wyckoff però c'è dietro una contestualizzazione anche per i take profit bisogna vedere i time frame più alti qua ci prende anche l'entrata al 50% del corpo che era questa e vedete che qua ci fa il test interno e il mercato continua poi a salire e andare doveva andare qua ci torna nella nostra entrata ora lasciamola andare avanti è stato un po' più lento del solito ok qua ci avrebbe preso il nostro take profit vedete perché qua ci aveva cambiato dominance quindi questa era la struttura precedente dove si appoggiavano dopo la caccia sono tornati a fare il test interno un altro errore ragazzi che non è un errore ma è un errore non farlo è non sfruttare al 100% lo schema di Wyckoff noi sappiamo che ad esempio in una distribuzione ok c'è la caccia c'è il test interno dopo cosa c'è il break the ice in una distribuzione ovvero il retest della struttura come in un accumulo invece stessa cosa beh caccia test interno e poi c'è il jump the creek il retest della struttura dove si può entrare a mercato no e io vedo che in tanti questo lo sottovalutano e non lo usano ma ad esempio qua in questa struttura vediamo che cosa che qua il mercato ci ha fatto massimi uguali ce li è andati a cacciare qua sono stati molto rapidi non ci hanno fatto il test interno nei time frame più piccoli sarebbe questo comunque ci hanno rotto la struttura e qui ci hanno fatto un test perfetto della struttura a livello di price action quindi si poteva mettere un'entrata qui ovviamente magari fatta bene sui time frame più piccoli magari col grafico a linee vedevamo il mercato dove aveva rotto nel minimo più piccolo tipo questo e avremmo potuto mettere per sicurezza un'entrata nel minimo un po' più basso per non farcela perdere qui con lo stop magari sopra questo massimo e qui via poi si continuava a prendere il trend ribassista e si andavano a mettere diversi take profit e vedete che questa era un'entrata sul break the ice guardate qui sposto la visione di pochissimo pochissimo tempo prima e qua ci è andato a fare questa bella caccetta ok dopo ci è andato a rompere tutta questa struttura a ribasso dove il mercato rimbalzava tre volte una due tre scusatemi l'ambulanza e poi qua cosa ci ha fatto pam il test anche qua grafico a linee la struttura più bassa era questa quindi per sicurezza prendevamo questa vedete poi ci è arrivato con il rifiuto qua ok a prenderla e anche qua si entrava qui poi per lo stop loss dovete metterlo voi magari lo mettevate visto qua c'era dell'inefficienza un po' sopra così se fossero tornati a colmarla eravate a posto e qui mettevi magari un take profit qua dal minimo ok poi ovviamente ripeto il take profit ora lo stiamo mettendo a caso bisognerebbe fare un'analisi più generale questa è un'altra entrata del break the ice e guardate qui sempre in mezzo a queste due entrate per vedere quante volte fa queste cose qua ci fa una zona ovvia una caccia ok poi ci fa un test interno qui e qual'era la struttura precedente potente vedete dove rimbalza il mercato era questa la struttura no ok vediamo che qua il mercato aveva fatto questo grosso massimo che era il massimo più alto si era appoggiato anche qua e che era prima e precedentemente un supporto in precedenza scusatemi qua una resistenza no anche qua vedete il mercato cosa ci fa ci accumula liquidità sopra quello che abbiamo appena visto nell'altro schema dopo ci accumula liquidità sopra per poi andare a far cosa andare a farci la caccia proprio in questa zona vedete come il mercato fa più cose in uno qua noi lo vediamo come una caccia abbiamo già visto prima come potevamo prenderla ma dove la fa qua questo è il jump de cric il jump de cric anche di questo schema perché in questo schema hanno fatto la caccia sono tornati hanno fatto appunto il test interno hanno rotto questa struttura precedente era rimasta aperta sono tornati a chiuderla e quindi poi il mercato ci ha fatto la nostra caccia ok qua sono tornati ancora più sotto quindi anche qua volendo eliminiamo un attimino tutto facciamola bene questa era la struttura abbiamo detto dove la rimbalzava più volte qua ci hanno lasciato anche dell'inefficienza aperta qui che non hanno chiuso da questo rifiuto a questo ok ci hanno accumulato liquidità sopra come fanno spesso abbiamo visto qua poi cosa hanno fatto come si poteva entrare qua in questo modo mettere l'entrata qua dalla struttura lo stop semplicemente sotto il minimo sotto questo minimo qua sotto il minimo così e questa era l'altra entrata take profit qua sopra che c'è un sacco di liquidità vedete e questa era l'entrata che si poteva che si poteva fare anche questa benissimo poi anche qua sempre stessi discorsi ti sei perso questo che era nei time frame più piccoli di nuovo questa caccia questo jump the click appunto era questa caccetta qua rompono questi massimi qual è l'ultima missione sell prima del buy che va a rompere anche qua questa è l'ultima sell to buy l'ultima sell prima del buy quindi si metteva un'altra entrata qua su questa candelina qua con lo stop sotto la candelina nera questa era un'altra entrata che si poteva fare il mercato fa sempre le stesse cose e questo era un 1-9 quindi queste erano due entrate che si potevano prendere ragazzi spero di avervi fatto capire degli errori che magari stavate commettendo tipo non aspettarsi il cambio dominance o non usare il break the ice o il jump the creek oppure di avervi fatto capire a parte gli errori ancora meglio come utilizzare e vedete come tante volte quello che può essere un test interno su un time frame sul time frame più piccolo è una caccia e come fanno le cacce in senso accumulano prima liquidità vanno a cacciare dove prima magari c'era un'immissione che rompeva tutto quindi spero di avervi fatto aprire gli occhi di avervi fatto capire alcune cose che stavate sbagliando e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti